benvenuti e ben trovati sugli on tube eccoci in questo video per andare a vedere il negozio gente di oggi 30 marzo 2024 sabato iniziamo subito con il bello verso arriviamo le skin del bello verso con mars shinobi del 600 bbac questo costume è reattivo anche sul lego poi abbiamo della torse decorativo la mia volta curto il piccone la lama o poi abbiamo un marshmallow 1500 costume reattivo doppio stile bellissimo anche lo stile nero dark poi abbiamo marshall femminile diciamo e marshmallow anche lei vediamo che ha doppio stile e poi abbiamo il dorso decorativo mella un dorso decorativo reattivo poi abbiamo il piccone mar splendore poi abbiamo il deltaplano bello rider eccolo qua classico deltaplano due stili con questo effetto molto particolare secondo stile vedete questa esplosione all'inizio e poi abbiamo un altro piccone maglie bello molto belli questi in doppio stile vediamo il secondo stile distruttore tostato ok poi scendiamo allora intanto ragazzi perché questo qua di oggi mars shinobi è il cosmetico più raro di oggi del di oggi perché è uscito ben 538 giorni fa quindi oltre due anni oltre un anno e mezzo circa ragazzi ok andiamo avanti nike airforia ancora presente e poi arriva airforia 1 riproposto il pacchetto airforia riproposto anche qualche giorno fa con la skin di max al maximo il dorso decorativo max stax doppio stile poi abbiamo il costume airy ripro stile per lei l'avevo già visto cambia pochissimo non reattivo e questa modalità colore e poi il suo dorso decorativo pure soul boombox stereo let's go ancora presente il bundle scatto definitivo versione maschile punto extra versione femminile bundle del re dorato di mida con aurelia oro scheletron mazza frusta del tributo ancora presenti l'emote shoya bundle berge sempre presenti così come l'emote skin tipo il bundle bomba rola da spiaggia e poi abbiamo questa nuovissima emote to the beat andiamo subito a vederla ok davvero molto carina ok davvero molto carina è molto carina poi abbiamo bascia con quattro stili militare bagliore militare e oscuro poco tempo fa era uscito anche lui forza decorativo scudo dell'amacorno militare e oscuro con i suoi stili poi abbiamo il ritorno di wukong le bandiere reali e poi il cavaliere rosso 2000 vbac per questa per questa skin col sudorso decorativo scudo rosso poi passo incruciato e scena 14 le due emote e poi abbiamo qui un bundle coniglio damerino un bundle diciamo con dutch 4 stili per questo coniglio simpatico la notte cioccolato e giacca scarabocchio bellissimo mi piace poi abbiamo il suo dorso decorativo chiave schele coniglio castiglio simpatico piccone candelopera e poi la motta salta salta coniglietto poi bundle azuki è ancora disponibile bundle pattuglia pastello sempre disponibile così come il canestro dell'uovo le motte il bundle coniglio con tutti i suoi personaggi il piccone coniglio o il dorso decorativo ramboniglio bundle hopper ancora disponibile e poi abbiamo due lante audace tanti oggetti proposti quest'oggi eh ragazzi doppio stile con la maschera e il suo dorso decorativo taglia a fetta poi abbiamo un alia 1200 vpack cifr 1200 vpack senza skin senza dorso eh zero assoluto poi abbiamo e il piccone rompighiaccio ok scendiamo stile distintivo con assassina artica che è il cosmetico meno raro di oggi comparso esattamente la bellezza di ben 91 volte poi abbiamo il gendarme ombre in due stili con i pantaloncini corti marius ardesia poi abbiamo passo doppio e spettacolare poi abbiamo il bundle sì il mistero torna uscito pochi giorni fa con zona misteriosa sorte misteriosa e il dorso decorativo cambio enigma questo è un bundle 1300 vpack ancora un bundle armatita sars hanks con potassio smaximus dorso decorativo al durado copertura nuvule dorate piccone sfavilla e deltaplano bellissimi ali di graven scendiamo con bundle luna radiosa bundle lady gaga attrezzatore per il festival sempre presente le tracce gemma a rotazione il bundle McLaren 765LT bundle must be un 6 stili adesivi accelerazione missile posizionamento ionico e ruota Santa Fe castello dei cavalini del leone pacchetto boulevard balneare pacchetto 25 livelli pass festival pacchetto crew ultimi giorni pacchetto guardiani della galassia uscito ieri il pacchetto prestazione impeccabile starter pack il pacchetto principiante operazione lucente e il pacchetto salva il mondo ok direi che il negozio di oggi finisce qui con tanti tanti oggetti e tante cose da shoppare ragazzi quindi buon divertimento mettete un mi piace e ci vediamo presto con altri video ciao a tutti ciao a tutti ciao a tutti